Ora l'economia e il 2016 vedrai il 12% di risparmio sui costi dell'energia per le piccole e medie imprese mantovane grazie all'accordo tra AppiEnergia ed Enel. Le piccole e medie imprese mantovane risparmieranno il 12% dei costi di energia nel prossimo anno. AppiEnergia lancia il nuovo contratto di fornitura con Enel per tutte le aziende associate per il 2016. Per le società che hanno una spesa stimata sull'energia tra i 15 e i 20 mila euro al mese il 2016 grazie al consorzio Appi porterà in dote i costi fissi di 54 euro per megawattora il giorno e 44 la notte. Abbiamo siglato questo contratto con un fornitore primario perché dire che il fornitore Enel significa tutto in sostanza. Poi abbiamo siglato anche a condizioni straordinarie dal punto di vista del pagamento. Normalmente il pagamento era, quali tutti i fornitori sono 20 giorni data fattura, abbiamo fatto un contratto con 45 giorni data fattura. In modo particolare anche per i grandi consumatori o i grandi manifatturieri che dalla provincia di Mantua difficilmente oggi avranno condizioni di questo tipo se vogliono siglare un rinnovo per il 2016. A queste condizioni penso che sia quasi impossibile oggi. Un accordo che si fonda sul concetto che la competitività per le piccole e medie imprese parte prima di tutto dai costi dell'energia.